Dopo quello di Bari che peraltro non lo vedeva tra gli imputati, ci eravamo illusi di non dover più raccontare di processi a Berlusconi. E invece no. Ieri la Procura di Milano ha spiazzato tutti, aprendo un nuovo capitolo e chiedendo un nuovo processo all'ex Cavaliere, sospettato questa volta di avere pagato una dozzina di ragazze perché testimoniassero il falso nel processo Rubi per il quale Berlusconi è stato definitivamente assolto. Non basta una soluzione definitiva per chiudere un caso giudiziario, almeno in Italia. C'è sempre una coda, una coda giudiziaria che all'improvviso rimette tutto in gioco e purtroppo con cronometrica precisione. Berlusconi aveva appena ripreso a fare politica, ecco pronti altri capi d'accusa, altri veleni penali, altri macigni da scaraventargli addosso. Può un uomo a 79 anni dopo essere stato assolto dalla Cassazione subire questo ulteriore massacro? È chiaro, la giustizia non deve guardare in faccia nessuno, non c'è dubbio, non è l'età che ci fa essere impunibili. Ma che Berlusconi facesse regali alle ragazze, alle ragazze che ospitava a casa sua e nelle sue case è risaputo, anzi è accertato. L'ha detto lui, l'hanno detto le ragazze, si sono trovati i documenti e certo Berlusconi faceva e ha sempre continuato a fare regali perché è nella sua indole. Sospettare adesso, dopo la soluzione, che abbia pagato le ragazze perché lo salvassero dalla condanna nel processo Rubi, insomma assomiglia ad una tortura e un accanimento terapeutico che non si giustifica e che non aiuta alla buona giustizia. Quella che giornalmente tenta di risolvere problemi ben più gravi e con difficoltà sempre maggiori e non scatena persecuzioni per farsi notare, né fa terrorismo politico per assicurarsi la carriera.